si alzarono di buon mattino corsero al sepolcro e videro che la pietra era stata ribaltata donne perché cercate tra i morti colui che è vivo bella questa frase forte che deve rimbombare nei nostri cuori oggi più che mai come gli apostoli di Gesù che dopo la sua morte in cerca di protezione da parte dei giudei si erano rifugiati nel cenacolo perché giustamente pensavano se usciamo questi ci faranno la pelle e allora vivevano lì impauriti nell'attesa di un segno spaisati magari con tanti dubbi avevano perso il loro punto di riferimento Gesù e questo mi ha fatto pensare che anche noi che questa Pasqua così diversa ma così intensa che ci vede anche noi rinchiusi nel cenacolo delle nostre case con i nostri cari proprio come gli apostoli e allora Gesù che entra a porte chiuse nel cenacolo ed entra anche attraverso la porta di casa nostra e poi nel nostro cuore e a dire pace a voi è qualcosa di meraviglioso è qualcosa di io sono felice oggi sono felice perché Gesù viene ancora una volta nella storia dell'umanità nel cuore di ciascuno di noi a dire la morte che non è solo intesa come morte corporale ma soprattutto la morte del cuore quando perdiamo lo scoraggiamento quando ci perdiamo dietro pensieri che ci portano che ci fanno distogliere dalla via del bene quando pensiamo ma dov'è questo Gesù proprio come i discepoli di Emmaus che camminavano e diceva ma come ma non doveva essere lui che doveva liberarci che doveva e quante volte anche noi nel cuore abbiamo dubitato del bene di Gesù soprattutto in questo periodo del coronavirus dove i pensieri affollano e riempiono portando confusione alla nostra mente allora ecco che Gesù entra nella porta nel nostro cuore ma pace a voi ecco è ora di accogliere questa pace è ora di far entrare Gesù nel nostro cuore e Gesù ci dice anche un'altra cosa quel sepolcro era vuoto i sepolcro sono e quando entriamo in un cimitero vediamo tanti sepolcri dei nostri cari anche oggi di tante persone che per colpa di questa pandemia stanno morendo e Gesù ci risponde oggi con la risurrezione quelle tombe sono vuote perché Gesù ci vuole tutti con lui allora ecco un motivo per gioire anche nella tribolazione perché Gesù ci viene a dire oggi pace a voi chi crede in me avrà la vita eterna perché io sono la via la verità e la vita e la vita io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo alleluia cari fratelli vi voglio bene io oggi sono felice lo vedete che la felicità non dipende da da fuori di noi che magari volevamo festeggiarla per andare a fare scampagnate ma Gesù quando si accoglie Gesù nel cuore anche stando chiusi anche fosse una prigione ma Gesù viene a portare l'amore del cuore che è molto ma molto più che è qualcosa di più grande allora accogliamolo e sentiamo veramente quella pace che Gesù quando entrò a porte chiuse nel cenacolo disse pace a voi Santa Domenica vostra Monica vi voglio bene grazie a tutti grazie a tutti